Da un'epoca? No, c'è un'epoca di 15 minuti E' un film, quando erano stato dolce? Quando l'epoca? L'epoca da 7.70 Se mandano, c'è quanto? Ora manda le 20, manda le 20, se ne scudassi, le 5, le 5, le 5, le 5, le 5, il video, j'attic fratello, l'epoca d'un po' cattavoli e il video. Il video, vediamo il video, Grazie.